Voi avete sollevato delle criticità su questo nuovo sistema, criticità che possono essere sintetizzate in cosa? Noi abbiamo raccolto le testimonianze degli infermieri che lavorano all'interno del sistema 118, i quali a fronte delle nuove apparecchiature di cui sono dotati si sono trovati di fronte a dei disalci applicativi sul nuovo sistema. In particolare il nuovo sistema presenta un numero di patch adesivi in sostanza, il numero superiore a quello del precedente, il che significa che in particolari condizioni sugli scenari in cui gli infermieri operano si ha difficoltà concreta nel dover posizionare i vari adesivi. Quindi banalizzo se c'è una persona che semmai si trova in castonata all'interno di un sinistro e quindi ha la necessità nell'immediato di doverlo fare, è problematica l'esecuzione del tracciato proprio per questa ragione, perché presenta una serie di derivazioni in gran numero superiore. Poi altresì abbiamo fatto rilevare che non si ha il contatto diretto con il cardiologo, col precedente avevi la possibilità di interloquire col cardiologo e quindi di avere nel concreto e nell'immediatezza un riscontro oggettivo sulle condizioni dello stesso. Che margini di errore ci sono tra il nuovo e il vecchio sistema? Certamente anche il precedente presentava delle criticità legate semmai a un'area in cui c'erano delle interferenze radio, siamo d'accordo, ci non crede altro. Anche su questo abbiamo rilevato proprio nelle impostazioni del sistema che bisogna individuare un campo che ci consenta poi la connessione. Poi c'è tutte le problematiche relative alle impostazioni del tracciato. C'è un vantaggio che lo rilevi anche sul monitor, nel senso che hai l'immediatezza del tracciato per cui l'infermiere è anche in grado nelle criticità di dover leggere qual è la situazione che in quel momento incontra. Mi pare di capire però che tra il vecchio sistema e il nuovo in precedenza c'era una maggiore velocità, cioè un riscontro più immediato e sappiamo che quando si tratta di salvare la vita ad una persona anche i secondi sono fondamentali, soprattutto perché c'era un contatto diretto in quel momento con il cardiologo, con un cardiologo. Certamente, l'infermiere come ben sa non ha autonomia decisionale rispetto alle valutazioni cliniche, quindi la presenza nell'immediato e una comunicazione telefonica che lo fa dialogare col cardiologo ovviamente lo mette nella condizione di avere maggiore disponibilità ad un'esecuzione diretta, semmai di tecnico o di procedure cliniche. Ecco, queste difficoltà le riscontrate frequentemente in maniera quotidiana? Dalle segnalazioni che ci giungono appunto si evince che abbiamo delle criticità, abbiamo delle criticità che secondo il nostro punto di vista potevano evidentemente essere superate se si fosse affrontato in forma sperimentale il sistema coinvolgendo direttamente gli infermieri, cosa che non è assolutamente successa. Ecco, su questo vorrei soffermarmi perché si parla di un sistema che è partito il primo ottobre scorso ma che sarebbe stato anche testato con delle prove, con delle simulazioni, con una sorta di sperimentazione che avrebbe dovuto poi certificare la qualità e l'efficienza del servizio. Se parliamo di prove di simulazioni, diciamo di laboratorio, chiamiamole così, mi pare che la differenza invece con una simulazione sul campo sia completamente diversa. Ed è la stessa cosa che pensiamo noi, caro direttore. Se ci fosse stata una sperimentazione noi avremmo sicuramente raccolto testimonianze dai colleghi che nel sistema si sono cimentati. Come lei ben sa, nell'ambito della giuridicità del rapporto di lavoro tra amministrazioni e infermieri, quando si fanno dei progetti sperimentali c'è traccia, c'è traccia e evidenza documentale. Se qualcuno mi dimostra che c'è evidenza documentale di una esperienza che non è stata vissuta in laboratorio ma sul campo, io sono pronto a dirle il contrario. Ecco, al di là di queste criticità che voi avete legittimamente sollevato, c'è anche una azione propositiva per cercare di migliorare il sistema. E quindi proposte che voi potreste anche presentare e avanzare all'ASL, ma anche al Policlinico, dove viene gestito il sistema centrale di telecardiologia e che potrebbe integrare questo sistema. Sì, intanto qualche suggerimento che ci è stato portato da alcuni colleghi rispetto alle criticità riscontrate è semmai dotare gli equipaggi di un'ulteriore comunicazione digitale. Una comunicazione digitale che abbia una priorità di comunicazioni nell'ambito della rete del servizio e che quindi consenta agli infermieri, semmai solo all'interno di un'ambulanza, di dover gestire con un raccordo e con maggiori sinergie il caso clinico che in quel momento sta trattando. Ecco, l'ultima domanda è questa. Lei mi diceva prima che siete anche disponibili a testare concretamente, praticamente a mostrare queste prove tecniche, questa simulazione sul campo. Se le amministrazioni interessate ci danno il consenso, ma deve essere un consenso formale, a venire nel suo studio e a documentare le differenze di utilizzo del sistema, noi siamo bene, pronti e disponibili a dare questo contributo.